Alex hai segnato due gol fammi sentire allora dimmi qualcosa della partita come è andata l'intervista no è andata bene ma poteva finire male ma tu hai segnato due gol giusto? si doppietta e comunque a un certo punto vi siete allentati vi siete stancati? abbiamo sottovalutato gli avversari infatti siamo andati due volte in svantaggio cosa che per caccio non ci deve fare male sottovalutare gli avversari però alla fine la nostra tecnica forza all'intervista 5 a 3 perfetto ciao grazie perché tenevo la voglia di segnare perché in tanti partiti non l'avevo mai segnato poi la forza e la coraggio mi ha fatto saltare senti quanti gol hai segnato quest'anno? quest'anno questo doppiettimo due gol solo due gol hai segnato quest'anno però hai segnato pure mi sembra partire con l'uccellito o mi sbaglio? va bene grazie Babacasa ciao